ciao belli miei benvenuti all'interno di questo nuovo video di brawl stars oggi vi delizio con tante novità perché oltre a presentarvi tutto quello che concerne il nuovo aggiornamento che sta per arrivare vi presento quello che sembra essere il nuovo brawler in arrivo tra veramente pochi giorni quindi riteretevi veramente pronti chi ha i crediti da parte si è portato avanti quindi gg per coloro che ce li hanno insomma voglio presentarvi un po di cosette quindi guardate il video fino alla fine mi raccomando detto questo io come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanella lasciare like nel caso foste interessati a vedere nuovi video di mobile gaming io porto principalmente giochi supercell ma può essere che poi naturalmente in occasione di giochi magari che possono pompare extra supercell naturalmente potrei portare ad agiarmi su quel contenuto lì detto questo spostiamoci subito su brawl stars il mio profilo attualmente conta 29.906 coppe vi ripeto sono un profilo abbastanza in crescita sto cercando di crescere nel senso che in linea di massima mi porta abbastanza avanti con tutto quello che è il mondo delle coppe non coppe che può essere vi ripeto inoltre anche che avete chiesto in tanti vapor come fai a conciliare università studio youtube eccetera io faccio il più il possibile per portare più contenuti ma quello che diventa poi difficile è la è la costanza quindi se magari qualche volta i video short mancano può capitare detto questo trasferiamoci sul gioco perché ce ne sono tantissime di cose da vedere innanzitutto riscuotere il regalo giornaliero che vi ricordo attualmente esce alle ore alle ore 10 in quanto con l'ora legale viene posticipato tutto di un'ora solitamente esce alle ore durante l'ora legale esce alle ore 9 adesso esce alle ore 10 quindi tutto diverso put brawl abbiamo una mappa abbastanza interessante nel senso che potremmo portare busters a livello 500 quindi approfitto dell'occasione per fare qualche killetta con busters e magari riuscire ad arrivare a sto diamine di livello 100 che mi sta un po tormentando quindi non voglio non voglio rimanere diciamo col col con questo da fare e portiamolo a livello 100 per favore per favore a livello 100 rapidamente anche ok molto bene i damage molto bene quell'altro di là qua riusciamo in linea massima a non prendere troppi danni e devo dire che nonostante effettivamente le problematiche che può creare questo tornado ce la siamo giocata abbastanza bene poccio li facciamo pure spiegare una grande ulti quindi un grande gg per noi oddio adesso io vorrei capire come gestiamo il tutto cioè sarei abbastanza sincero e curioso di questa cosa qua bellissimo il tiro che un'altra volta è stato un grande tiro e qua un gran gol di intelligenza prima della ulti di gelindo diciamo a spostarci sul laterale e andare ad innescare un gran gol devo dire in linea di massima mi piace un sacco grabbare quindi buonissimo il grab sul sul gelindo qua riusciamo a schiacciarli nel senso che io riesco a tenermi una lane da parte e questo voi direte va qualcosa c'entra ma c'entra perché vi posso sicurare che il fatto di tenere una lane da parte aiuta poi un sacco nella crescita generale del tutto allora io adesso io farei una roba di questo genere con grandi danni fatti devo dire che abbiamo fatto egregiamente danni e adesso qua è da gestire da capire un attimo come come migliorare il tutto io riesco a tenere una linea guida abbastanza onesta e riusciamo a stringerli abbastanza la vera problematica è piper che sicuramente con i suoi colpi effettua molti danni bisogna fare molta attenzione ad evitare eventuali eventuali cose io riesco ad inserire un grandissimo danno attraverso la mia ulti e attraverso anche l'utilizzo di alcuni gadget extra bisogna sicuramente capire anche devo dire la verità come andare poi ad effettuare la vittoria a questo punto mi sa che la vittoria verrà effettuata per tempo scaduto in quanto non penso riusciamo ancora ad attaccare più di tanto sono abbastanza contento del golf fatto del golf fatto della chitto fatto proprio sull'avversario e poi sinceramente proverei attacco del tutto per tutto con un decente tiro perché sicuramente era un tiro decente quello non si può dire niente loro proveranno attacco finale naturalmente senza possibilità perché non riescono neanche a tirare la palla e devo dire che questa è una gran vittoria che porta 500 coppe io direi che 500 coppe rimangono il nostro standard non mi spingo naturalmente oltre ma l'avete detto in tanti di spingermi oltre non sono attualmente interessato nella crescita extra quindi la lasciamo pure come l'è e qui riusciamo anche a riscuotere mille monetotte da gelindo che mi fanno molto bene devo dire che queste monetotte mi fanno effettivamente molto bene perché vanno ad aggiungersi a tutto nostro peripillo di di tutto perché ho tantissima roba da parte i crediti non li vado a sbloccarli andrò a sbloccare successivamente per lo sblocco del brawler in quanto ne ho veramente pochi da parte ne ho 1370 e devo ne ho veramente tanti nel senso accumulati nelle stagioni passate vediamo se bastano per lo sblocco di questo nuovo brawler sono abbastanza curioso di tutto questo detto questo voglio presentarvi il nuovo brawler si chiama willow che arriverà sul mercato con un costo non so di quanti crediti sinceramente non sono esperto di tutto questo lo scopriremo lo scopriremo ragazzi vi prometto che lo scopriremo porca miseria ladra e vedremo un attimo come gestirlo io cerco di salire col pass assolutamente yes e il brawler ve lo presento perché ha delle particolarità abbastanza importanti oltre ad avere una vita normale quindi 2500 ha una portata lunga una velocità di ricarica molto lenta fa dei danni molto importanti quindi non ci resta che provarlo all'interno del campo di prova che è il miglior metodo per testare i danni che fa la velocità di ricarica la velocità di quello di quell'altro allora sicuramente vediamo la portata vedete che è una portata alla bombardino i danni che fa sono dei danni a meno che uno non faccia dei danni diretti sono abbastanza leggeri non vedo molti danni fatti li fa poi con la pozza di veleno e tutto la ulti deve essere abbastanza forte immagino non so quanti danni faccia devo dire la ulti sono dei danni particolari voglio testare il danno qua sono 1500 i danni che fa al livello 1 non è un brawler eccezionalmente forte sicuramente se la cava molto bene in scontri ravvicinati con la ulti e sicuramente c'è anche da valutare l'aspetto di questo danno a zona che io volendo posso lasciar fare da lì se io lancio i poli e non hitto nessuno il danno non viene effettuato un po' particolare come scelta di gameplay sicuramente un brawler che arriva particolare con cui ci dovremmo divertire e sicuramente andrà ad accompagnarsi alla scalata di tutti quegli altri brawler che devono ancora purtroppo arrivare a 500 coppe sono ancora tanti lo so assolutamente sì ho un sacco di potenziale di coppe vedremo cosa riescerò a fare in futuro detto questo io come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare la campanella, lasciare like tutto quello che ne consegue noi ci vediamo domani alle ore 14 con un nuovo video qua sul canale ciao belli miei, un bacione ciao